Intanto ci scolleghiamo e facciamo un giro di campo, così di presentate, e intanto non diamo il ghiaccio. Partiamo dall'operto della Mante, che presenta appunto le generali, insomma, presentarsi. Antonio Paoletti, presidente di una Camera di Commercio di Venezia Giulia, che dopo la sua elezione ha eletto anche la giunta per acclamazione. Grande sintonia e grande volontà di continuare a lavorare per questo territorio. Io penso, nella mia esperienza, che sia forse l'unica Camera di Commercio italiana, che, oltre ad aver avuto per acclamazione il presidente, che succede anche in altre Camere, ma averla giunta, votata per acclamazione, è una cosa unica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'operato delle mie presidenze, ho lavorato bene, le associazioni di categoria, tutte, comprese i consumatori, i libri e le professioni, le parti sociali e i sindacati, hanno ritenuto di darmi fiducia ancora per questo mandato. Per cui, la soddisfazione è grande, i problemi che ci aspettano in questi cinque anni sono enormi, il ruolo delle Camere di Commercio, nel PNRR, è fondamentale, sia direttamente che indirettamente, con regioni e in un Camere nazionale. Le sfide sono importanti, dobbiamo spendere un sacco di soldi in cinque anni, proprio in cinque anni del nostro mandato. Dovremo, siamo all'altezza di poterlo fare, abbiamo la progettualità necessaria per cantierare subito parecchi progetti. E questo è quello che faremo in questi prossimi cinque anni. Massimiliano Ciarocchi, vicepresidente per acclamazione della Camera di Commercio a Venezia Giulia, rappresenta il settore dell'industria, ma anche il garante della continuità di un ottimo lavoro fatto in questi primi cinque anni. Sì, mi muoverò in continuità con quello che questa giunta ha realizzato nella consigliatura precedente, quello che era un concetto, la Venezia Giulia, abbiamo dimostrato essere diventato una realtà, una realtà economica, una realtà sociale, coesa e su questo lavoreremo per far sì che i grandi progetti che troveranno gambe su questo territorio possano consentire uno sviluppo economico industriale per i prossimi vent'anni. Maglio Romanelli rappresenta nella giunta della Camera di Commercio a Venezia Giulia il settore del commercio e dei servizi avanzati. Un momento particolarmente importante per la vostra categoria. Il commercio, il turismo e i servizi escono fortemente impattati da un anno e mezzo di pandemia, ma la Camera di Commercio di Venezia Giulia saprà interpretare le esigenze del territorio per supportare la crescita delle imprese che sicuramente con la loro resilienza riusciranno a rispondere a questo momento di difficoltà, sia nel commercio che deve seguire nuovi trend, deve cambiare pelle, ma anche nel turismo che riprenderà la linea di crescita già avviata nel passato con nuove iniziative. Michela Cataruzza rappresenta il settore dell'industria, ma in particolare quello della logistica e dei trasporti, che va ad inserirsi una rete già creata all'interno della Venezia Giulia, ma che necessita di un'ulteriore implementazione. Sicuramente con i fondi del PNR e mettendoci tutti quanti in rete sul lavoro già fatto prima e con il lavoro che faremo in questo prossimo futuro, ci sarà una grandissima ricaduta sul territorio e questo a cui aspicchiamo e dove ci concentreremo per lavorare e raggiungere questo obiettivo. Eric Masten rappresenta il settore dell'agricoltura all'interno della Giunta Camerale, un settore che in questo momento vive una situazione di grande evoluzione. Sì, sicuramente è un settore particolare che in questi anni ha saputo concentrarsi soprattutto sull'aumento della qualità della produzione e grazie a questo poi è riuscito a internazionalizzare la vendita, ovvero ha saputo portare il nome di Trieste e di Gorizia sui mercati internazionali. Siamo sicuramente in un periodo particolare in cui ci aspetta un grande lavoro, ovviamente avete già menzionato il PNRR, ma per quanto riguarda l'agricoltura parliamo anche di una nuova programmazione, ovvero la nuova politica agricola comunitaria che si sta concretizzando, si sta definendo a livello europeo e di conseguenza anche il periodo di un nuovo programma di sviluppo rurale che interesserà il periodo futuro. Con Dario Bruni, il settore dell'artigianato e la Camera di Commercio Venezia Giulia avranno un dialogo speciale. Sì, innanzitutto ringrazio i componenti del Consiglio Camerale della Venezia Giulia e anche il Presidente Paoletti per aver individuato nella mia persona la rappresentanza degli artigiani della Venezia Giulia. Anche purtroppo il nostro comparto sta soffrendo moltissimo, non si era ancora sollevato dai problemi della crisi finanziaria che è intervenuta purtroppo questa pandemia, ma sicuramente la Camera della Venezia Giulia ha già dimostrato in passato e lo sta dimostrando tutt'oggi di saper rispondere al fabbisogno delle imprese del nostro settore dell'artigianato e porterò al massimo come contributo affinché si possano portare non solo le istanze ma soprattutto le soluzioni e i bisogni che il nostro comparto sta soffrendo.